è giusta però e si ma se ti s'incuzza sotto fai una tomba dell'ostrega però vedi come si incuzza quindi il colpo ciao no ti impuzzi adesso c'è sotto la terra molle qua non esci più cazzo è molle cazzo no 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 a mo no no e ma impiccato è ma basta un buco è ma apri la pietra è ridotto è ridotto è ridotto di solito lo faccio a tutti perché ci sta comunque hai visto un buco dai scavoli si diverte con i matti fai un buco nella sabbia per i bambini basta si diverte con i bambini è così il peso con i bambini ma la prendi pure o mi lascio la macchina io? no no vado io dopo se no io mi lascio la macchina se domani è senza, però è a casa non ci frego, non si serve però domani è a casa, se lei gli serve per uscire